C'è una diminuzione della domanda del trasporto su gomma e soprattutto un mal servizio perché purtroppo le merci poi non arrivano. Il caro carburanti continua a generare preoccupazione in regione per tutti i settori coinvolti. A farne le spese siamo tutti quando si parla di trasporti e di reperimento merci. Il forte calo della domanda di trasporto su gomma genera un effetto domino che si ripercuote su tutta la società. Tutti gli autotrasportatori sono molto preoccupati e soprattutto sono in grosse difficoltà perché ovviamente questo rincaro della benzina e del carburante in generale è talmente alto che i costi producono e ovviamente poi va sull'utenza oltre che camionisti. Quindi questo comporta una possibile penuria di alcune merci specifiche? Già è difficile trovare le merci, certi tipi di merci, parlo del ferro, il cemento, il legno. Poi se ci mette anche il caro trasporti diventa un ulteriore problema su cui poi bisogna lavorarci. Stiamo aspettando notizie da Roma per vedere se anche il ministro, il ministerio o comunque il consiglio dei ministri fa delle iniziative in tal senso. Noi ci stiamo lavorando anche come regione per trovare eventuali soluzioni. Certo che le cifre sono enormi e per cui non sarà facile neanche trovarle.